Da sindaco di Pineto a presidente della quarta commissione, quella per i rapporti con l'Europa e la regione Abruzzo è un bel salto di qualità? Di qualità come la commissione, soprattutto i componenti che insieme a me porteranno avanti questo lavoro importante perché ormai tutto viaggia a livello europeo, ma non solo in termini di finanziamento, di monitoraggio delle spese, ma anche sulle norme, sulle leggi che devono essere attuate nella regione Abruzzo. Siamo anche in questo periodo rivisitando la legge 22, la legge europea e regionale, affinché si possa lavorare meglio per portare quelle norme in cui a volte l'Italia cade nelle infrazioni. È un lavoro molto importante perché ormai tutto quello che viaggia, soprattutto sui finanziamenti, è a livello europeo, quindi bisogna creare quel rapporto forte tra il Consiglio regionale e la Giunta, tant'è che ho fatto già degli incontri con i dirigenti affinché si possa mettere in rete tutta quella serie di provvedimenti e vedere i tempi di scadenza, soprattutto se queste vengono attuate e se vengono spese. L'impatto con la regione, questo primo impatto che c'è stato, com'è? L'impatto è naturale che sia completamente diverso il lavoro che si svolge nel Comune e nella regione. Uno perché mentre l'altro si è operativi, l'altro è legislativo, un organo legislativo, quindi si presume che si faccia programmazione, leggi e quindi cambia totalmente. Poi nelle commissioni si riesce più a lavorare nel pratico, certo non è come fare il sindaco che si attua subito o bisogna dare subito risposte, i tempi sono diversi, ma noi siamo lavorando anche con i Comuni. Appunto per la questione della quarta commissione a breve incontreremo anche gli enti locali, le università, appunto per fare sinergia a rete affinché anche gli attori più importanti, quelli che sono più vicini ai cittadini, capiscano e conoscono le varie dinamiche sulle leggi europee. Grazie a tutti.